Signora Vardakis. Grazie di essere venuto, signor Valle. Due giorni fa abbiamo sepolto mio cognato. Non le faccio le mie condoglianze. È un incidente terribile. Omicidio. Il fatto è che ho un problema. Non mi fido della polizia locale. Per quale ragione? Per via della famiglia di mio marito. Non ho paura. Dovrebbe averne. Ci sono testimoni? No. Qual è l'ora della morte? È nel rapporto. Bene, posso vederlo? No. L'ho saputo che la polizia ha chiuso il caso. Sì, infatti, è solo che considerato il profilo della sua famiglia, credo che sia importante dei puntini su lei, eliminando ogni sospetto di attività criminali. È quello che crede sia accaduto. Pensa davvero che sia stato un incidente. Sono abituata agli attacchi contro la mia famiglia. Basta con le stronzate, Nick. Era complicato, però ci amavamo. Certa gente ha bisogno di sentirsi al di sopra degli altri. Ora scendo dalla mia cazzo di barca prima che la butti giù. Questa cos'è? Una confessione? Forse è stato ucciso perché sapeva qualcosa sul suo marito. Lei mi ha mentito. Non mi fidavo di lei. Ti ho detto di lasciare l'isola. Mi serve un favore. Di che cosa sta parlando? Ha sbagliato, Avenida. Quando sei spinto dalla gelosia, sai che quello che fai non è giusto. Ma lo fai lo stesso.